29 agosto 1947 muore il grande torero spagnolo Manuel Rodriguez Sanchez noto come Manolete nato a Cordova il 4 luglio 1917 inizia a esibirsi già all'età di 13 anni è la star delle più importanti plaza de toros del paese da Siviglia ad Alicante da Bilbao a Barcellona nel 1945 comincia a viaggiare all'estero Messico Peru Venezuela e Columbia viene riconosciuto come il più grande torero del mondo l'incidente che mette fine alla sua vita accade nella plaza de toros di Linares un toro islero lo incorna lacerandogli due arterie muore nel giro di poche ore il paese sotto shock indice tre giorni di lutto nazionale